Allora questo è un particolare addio al... come si dice? Ce li vado, ce li vado Ma lei è il protagonista? No No, perché ha una miss... scusi eh, lei è una miss... È mio marito a casa che mi sta vedendo in questo momento Ma vogliamo dire qualcosa a sua moglie, vogliamo dire a sua futura moglie Sì, probabilmente non so chi ha fatto la scelta giusta, però è fortunata Lei è fortunata, quindi non sai chi ha fatto la scelta giusta, però lei è fortunata No, io voglio avere una moglie così Vogliamo raccontare alla moglie i difetti di questo sposo? Prego Difetti... No, 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 i suoi amici Ce ne sono Ma è vero che fa molte flatulenze quando dorme, è vero, diciamolo, diciamolo Puri i ruti Puri i ruti No, i ruti no, i ruti no Ma la passa alla folletto a casa? Sì, sì, tutto, faccio tutto, i piatti, faccio tutto Rifaccio il letto, aspirapolvere, tutto Lei si rende conto che fine ha fatto, sì? Sì Va bene, allora un abbraccio a tutti Eccoli qua I più belli del giro in assoluto hanno... Io e l'Abruzzo hanno vinto loro, ragazzi Viva la fuga sempre, sempre